Premio Donna 2024, sesta edizione. Un premio ideato dalla Ollus per ricordare una figura importante per la città dell'Aquila, Antonio Padovani, così come voluto dalla sua famiglia. Un premio che ogni anno vede passare all'Aquila, nel bellissimo scenario di Casale Signorini, tante donne e soprattutto tante storie. Storie di tantissimo dolore, ma storie di coraggio e testimonianza. Persone che dopo aver subito violenze fisiche, violenze psicologiche, hanno trovato la forza di rinascere, di reagire, portando soprattutto ai giovani un messaggio importante. Un premio che ha assunto un carattere nazionale, che premia soprattutto il coraggio di donne che hanno sofferto ma che si sono ribellate e che hanno lottato. Un premio che celebra anche la rinascita. Il premio ha visto passare tante donne, ognuna con la propria storia. Quest'anno il premio, moderato dalla giornalista Monica Pelliccione, è andato a Daniela Di Maggio e Filomena Lamberti. Gianni Padovani, presidente della Ollus dedicata a Antonio Padovani. Ormai questo premio è una certezza, ha assunto anche una caratura nazionale perché viene presentato in Senato. Sesta edizione, tantissime donne che sono passate per qui perché è un premio che è nato proprio con questo obiettivo, di riconoscere il valore della donna, di essere contro ogni forma di violenza. E voi avete scelto di raccontarle, ogni anno di raccontare storie dolorose ma anche di rinascita. Sì, l'obiettivo del premio che è dedicato a mio padre è proprio quello, è quello di dare forza alle donne, di farlo attraverso quelle donne che si sono distinte nell'ambito professionali oppure comunque hanno subito delle violenze e hanno reagito o a quelle donne che lottano ogni giorno a difesa dei più deboli. Ecco, abbiamo visto storie importanti anche quest'anno, due premiate di assoluto valore, due storie differenti che però testimoniano quanto ancora c'è da dire e da fare su certi temi. Sì, diciamo due storie drammatiche di violenza, di sopprusi, però nello stesso tempo dimostrano anche la forza e la determinazione di queste due donne, la Lamberti e la Di Maggio, che comunque hanno reagito, lo fanno quotidianamente ogni giorno per cercare di combattere proprio queste violenze che in questo caso non trattano soltanto la donna perché nel caso di Maggio c'è il figlio coinvolto, però lei dimostra ogni giorno quella determinazione che come diceva appunto mio padre hanno le donne rispetto agli uomini, quei due passi avanti, quella marcia in più che noi cerchiamo ogni anno attraverso questo premio ma anche ogni giorno con la nostra attività di portare avanti perché bisogna parlarne ogni giorno per cercare di arrivare a quella famosa parità di cui spesso si parla. Daniela Di Maggio è la madre di Giovanni Battista Cutolo, detto Gio Gio, un giovane musicista napoletano ucciso per futili motivi, difendeva un altro ragazzo da un diciassettenne. Filomena Lamberti è la prima donna screggiata con l'acido dal marito nel 2012, voleva separarsi. Sì, tantissimi interventi per sistemare il suo aspetto ma oggi dice sono libera e rinata anche se il mio viso non è bello. Dal buio ha saputo rinascere, subendo anche un processo ingiusto. La sua storia è una storia di dolore ma anche di testimonianza. Lei oggi ai giovani, dopo la storia di suo figlio, che cosa si sente di dire? Perché poi porta avanti un messaggio molto importante, l'abbiamo ascoltato anche in Sanremo. Insomma, cosa si sente di dire ai ragazzi più giovani? Intanto io dico ai giovani che l'influencer giusto da seguire, perché lo dico proprio con i loro termini, in questo periodo storico è un ragazzo come Gio Gio, come Giovanni Battista Cutolo, che aveva una cifra valoriale altissima, medaglia d'oro al valore civile, ha perso la sua vita per aiutare gli altri, in un'epoca in cui la prevaricazione prende il sopravvento su tutto e si sdogana quest'immagine del prepotente, di quello il bullo, questo non va assolutamente perseguito. Quindi il messaggio che io lancio è questo, perché è la gentilezza di Gio che l'ha fatto diventare famoso, non certo la sua prepotenza. Spesso le fiction ci fanno vedere uno spaccato di Napoli particolare, lei più volte ha parlato anche di questo tema, che non è solo quello. Assolutamente no, perché io credo che sul palco di Sanremo io e mio figlio abbiamo rappresentato quella Napoli bella, quella Napoli pulita, laboriosa, che sicuramente non trova una rappresentazione in quelle dinamiche che vengono sdoganate e sempre rappresentate nelle fiction, assolutamente no. Ed è proprio quella Napoli lì che viene rappresentata nelle fiction, che noi, gente per bene, gente che lavora, gente onesta, vogliamo combattere assolutamente. Quanto è importante un premio così? Questa è la sesta edizione del premio Donna, un premio che si rivolge proprio alle donne, al loro collaggio contro ogni tipo di violenza. Lei nello specifico ha perso purtroppo un figlio, però è una donna che il coraggio lo porta avanti tutti i giorni e ne ha fatto una missione di vita. È fondamentale, è un premio, un riconoscimento intanto simbolico che rappresenta veramente quanto una donna possa essere coraggiosa nell'affrontare un dolore immane, come quello, ad esempio, il mio, che ho perso un figlio barbaramente trucidato. Io sono molto felice quando giro nelle scuole, quando vado dappertutto, quando vado in tanti luoghi, perché si avvicinano le donne, mamme, insegnanti, donne dello spettacolo, e mi dicono, Daniela, grazie, grazie perché tu ci dai coraggio e ci fa capire che di fronte al dolore non bisogna fermarsi. È già questa una bella testimonianza. Signora Filomena, lei ha subito un dolore enorme, però io come prima domanda le chiedo oggi chi è Filomena. Oggi Filomena è una donna rinata, anche con la mia identità violata, però io oggi sono una donna libera e per me la libertà va oltre a un volto bello. Ci sono state gli anni che sono stata, non ero bella, ma stavo bene con me stessa. Però sinceramente non cambierei la vita da donna, diciamo normale, se vogliamo dire così, da donna col volto sfregiato, perché io oggi vivo, mentre per 30 anni ho sopravvissuto. Con lei porta, diciamo, in giro il suo messaggio di una rinascita, appunto, una storia di dolore che non è stato solo fisico, ovviamente, ma credo soprattutto psicologico. Che cosa si sente di dire, insomma, ai ragazzi, soprattutto poi alle ragazze? Sì, infatti io sono, è dal 2013 che giro l'Italia dal nord al sud, la maggior parte vado nelle scuole, ma iniziamo dalle quinte elementari, perché è da lì che si deve insegnare ai ragazzini a rispettare le ragazzine, non fa distinzione, questo lo posso fare io perché sono donna, anzi, lo devo fare io perché sono donna e quant'altro. Anche le ragazze, le adolescenti specialmente, fare attenzione a riconoscere subito la violenza, perché ci sono vari tipi di violenza, c'è quella psicologica, c'è quella verbale, poi sai, quando sei sposata c'è quella economica che è la più disastrosa, che ti costringe a stare nelle quattro mura di casa e non poter andare via, cioè ci sono tante forme di violenza, loro le devono riconoscere, perché ancora oggi io sento che ci sono ragazze e dicono no, io non vengo alla gira scolastica perché il mio mio fidanzato non vuole e questo non è giusto. Senta, lei ha affrontato un percorso lungo, è una donna libera, oggi è una donna che si definisce rinata, ma si è sentita tutelata dalla giustizia perché poi c'è anche quell'aspetto, insomma. Qui toccava proprio un tasto molto dolente perché io ho avuto un processo a dir poco scandaloso, dove io non sono mai stata né vista né ascoltata da nessuno, nemmeno io allora non conoscevo spazio donna ovviamente, nemmeno io l'avvocata che nominai di fiducia, infatti il mio ex marito fu condannato per maltrattamenti in famiglia a 18 mesi, non per tentato omicidio e ci tengo anche a dire che questa sentenza mi ha penalizzato molto a poter usufruire dei fondi dello Stato, quei famosi 25 mila euro che tutte le altre donne hanno preso. Al dibattito hanno partecipato anche il Presidente dell'Ordine dei giornalisti e il Commissario Capo Piero Emidio Bianchi. Nel corso della serata, grazie ai suoi quadri esposti, è stata ricordata anche una donna aquilana e l'area fiabbiocchi prematuramente scomparsa premiata alla figlia. Presidente, l'Ordine dei giornalisti è sempre molto impegnato su questi temi, la tutela della donna, questo premio poi ha raggiunto una caratura nazionale, è un premio importante, ogni anno passano storie molto dolorose ma anche testimonianze di coraggio. Sì, è vero, noi giornalisti dobbiamo riflettere sul modo di trattare i problemi della violenza sulle donne, che è un problema che noi ci trasciniamo dal punto di vista della descrizione, della narrazione da molti anni. Passi avanti ne abbiamo fatti, probabilmente non sono sufficienti, dobbiamo continuare a migliorare. La nostra lingua purtroppo è una lingua maschilista che risente di millenni di prevaricazioni, di sopraffazioni e di egemonia dell'uomo sulla donna. Per cui dobbiamo assolutamente continuare su questa strada, io credo che l'Ordine dei giornalisti ma anche il gruppo di lavoro che va sotto il nome di Giulia, che raccoglie le giornaliste italiane, hanno fatto un grande lavoro di avanzamento e di progresso, non solo dal punto di vista del lessico ma anche dal punto di vista della immedesimazione dei giornalisti sulle problematiche delle donne. Commissario Bianchi, anche la Polizia di Stato ha fatto tanti passi in avanti negli anni a tutela delle donne per combattere sempre più la violenza. Assolutamente, grazie a Dio il legislatore già dal 2009 ha messo al nostro servizio degli strumenti abbastanza incisivi che ci permettono di intervenire. Poi nel 2013 la normativa sulla violenza domestica ha in qualche modo completato tutto l'assetto normativo e ci permette quindi tramite un'istruttoria di intervenire, agire e in qualche modo reprimere questi atteggiamenti che a volte non portano alla serenità, oltre che familiare ma sociale, nelle dinamiche stesse. Ecco, a livello di numeri e a livello generale c'è ancora troppo sommerso? Cioè le donne hanno paura ancora di denunciare? Purtroppo sì, nel senso che ci troviamo nelle condizioni in cui a volte dobbiamo noi stessi scavare anche da altre situazioni che cerchiamo di cogliere, a volte anche da testimoni o da persone che la legge lo ammette anche da persone che fanno un'informazione in tal senso, quindi ci comunicano questo tipo di Stato noi interveniamo e la legge permette anche una tutela di quella persona che ha fornito quel tipo di segnalazione. Monica Pelliccione, giornalista, moderatrice di questo premio che è nato insomma con te. Ogni anno qui all'Aquila passano donne straordinarie, donne con storie incredibili, di dolore ma anche di tanto coraggio e testimonianza e le premiate di questa sera ne sono un esempio. Sì, è proprio così, è un premio che di anno in anno sta conquistando una caratura nazionale tant'è che è stato presentato in Senato e che ci fa conoscere, ci fa entrare dentro delle storie di coraggio di violenza ma anche soprattutto di rinascita, di grande coraggio come nel caso di Filomena Lamberti e di Daniela Di Maggio storie che meritano l'attenzione perché riguardano donne che nonostante la sofferenza profonda, fisica, psicologica e i soprusi subiti sono riuscite con grande carattere a combattere perché ci fosse giustizia. Appunto Daniela Di Maggio e Filomena Lamberti ne sono un grande esempio. Il tema è sempre quello della violenza, violenza non solo fisica ma anche psicologica. Questa sera ne abbiamo parlato con il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Pallotta e con tutti gli ospiti intervenuti perché è un tema che deve comunque rimanere alla ribalta, un tema delicatissimo ma anche molto molto difficile da affrontare.